È una seta che viene da lontano. Questo è un ospedale che ha una forte connotazione oncologica, una forte connotazione chirurgica, ma se si va a vedere il passato, questo ospedale nasce come un ospedale per convalescenti e quindi un ospedale riabilitativo. Nel nostro DNA c'è questa componente riabilitativa. Non a caso, da moltissimi anni, noi abbiamo una forte connotazione di riabilitazione, non solo di carattere ortopedico, ma anche neurologico. Questo intervento si inquadra in una posizione che è stata deliberata recentemente da Delibera 614 della Regione Veneto, quindi nella programmazione regionale, che ha concesso 25 posti letto in più di riabilitazione per far fronte al fatto che nella provincia di Verona i posti di riabilitazione erano insufficienti per riabilitare le persone che si sottoponevano a interventi di anca, di protesi dell'anca, protesi della spalla, protesi del ginocchio, eccetera. Non a caso, noi abbiamo un centro ortopedico di livello, di grande livello, per interventi credo che sia il sesto d'Italia, è il centro di riferimento regionale per la revisione dell'anca e del ginocchio e quindi i nostri pazienti purtroppo non trovavano più posto né a Negrà né nella provincia di Verona, ma dovevano migrare in altre regioni. Ecco perché sono stati costruiti altri 25 posti letto, naturalmente programmati dalla Regione Veneto recentemente e questo è il senso di questo intervento.